mettersi alla guida sotto l'effetto di alcol o ancora peggio di droghe si rischia la vita si mette in pericolo anche la vita altrui beh naturalmente si rischiano gravi problemi di salute prima di tutto problemi salute per chi appunto assume queste sostanze o chi abusa di bevande alcoliche come ha detto lei naturalmente si mette a rischio la vita di chi c'è a fianco in macchina e si rischia la vita dell'altro utente della strada con il quale noi potremmo interagire in condizioni di alterazioni psicofisiche perché poi il problema principale è che queste sostanze tendono ad alterare lo stato psicofisico di una persona quindi la capacità di dominare il veicolo di governare la strada e di reagire anche qualora appunto alla guida dovesse presentarsi anche una situazione fuori dal normale come può essere l'attraversamento improvviso di un animale attraversamento improvviso di un'altra persona capacità reattiva della persona viene a mancare naturalmente in base anche alla sostanza utilizzata e a varie circostanze vogliamo anche specificare che anche le cosiddette droghe leggere rappresentano un pericolo per chi si mette la guida? Beh personalmente non mi trovo d'accordo l'utilizzo del termine droghe leggere droghe pesanti perché per me le sostanze stupefacenti sono sostanze che hanno tutte una loro intrinseca pericolosità nei confronti della persona che le assume c'è la anche il diciamo l'idea che appunto possa essere meno impattante sull'organismo possa essere soltanto foriera di un momento di svago di un momento di anche di estraneazione dai problemi quotidiani ma assolutamente sono sostanze che anche in piccola quantità comunque sia interagendo col nostro organismo prima di tutto col nostro sistema nervoso ma anche con altri organi possono dare problemi di varia natura insomma ripeto non soltanto a livello del sistema nervoso